Alle volte dovremmo chiederci se quello che proviamo per una persona è amore o ossessione. Sono due cose molto diverse. In altri video ho parlato della differenza fra amore e innamoramento, che sono ancora due cose diverse, ma anche amore e ossessione hanno delle grandi differenze. Beh, la regola principale è che nelle situazioni normali, ovviamente a parte casi particolari, l'amore è un sentimento condiviso. Tu ami una persona, questa persona ama te, c'è uno scambio di emozioni e un progetto insieme. Se invece tu ami una persona e questa persona ha dei sentimenti diversi nei tuoi confronti, ad esempio non le interessi o addirittura non ne sa nulla neanche della tua esistenza, caso comune, oppure sa della tua esistenza, magari anche una relazione con te, ma l'unica cosa che fa è prendere le tue emozioni, servirsene, usarle, quello non è amore, quello è ossessione. E questo ti fa capire che in molte coppie non c'è amore, ma c'è ossessione. Una persona ama, quindi riempie la scatola delle emozioni, e l'altra prende soltanto dalla scatola delle emozioni. Beh, questo non ha nessun senso. Un amore, un vero amore, è un dare e ricevere. Non dare per ricevere, ma dare e ricevere. Perché se diamo e basta, l'unica cosa che otteniamo è consumarci.